Via 7ma strada corre parallela alla superstrada nella zona industriale di Bellocchi, una strada ad alta intensità di traffico nelle ore di punta perché mette in contatto la frazione con il centro fanese, ma lungo la quale c'è un caseggiato i cui residenti lamentano qualche situazione di degrado e di pericolo che si protrae da diverso tempo. Una nota dolente di questa zona ci dicono è proprio l'isola ecologica ai margini della careggiata, pochi metri dalle case che per la sua collocazione si presta facilmente all'abbandono irregolare da parte di gente di passaggio di ogni sorta di rifiuto. Qui qualsiasi persona arriva, dato che c'è la strada, parcheggia la macchina e scarica di tutto. Abbiamo trovato addirittura anche legname, addirittura qui e oggi ci sono dei vestiti, qualche giorno fa addirittura c'era una cassetta di cachi. Nel tempo creando non pochi disagi e anche fastidiose conseguenze gli abitanti hanno trovato di tutto, dal mobilio a pezzi, cibo proveniente da aiuti comunitari ancora buono lasciato lì al sole a marcire, panni usati o masserizie di scarto messe lì tra un bidone e l'altro. Ultimo in ordine di tempo un platò di frutta fresca e commestibile lasciata lì probabilmente è proveniente dalle consegne di frutta e verdura gratuita che viene fatta al Codma di Rosciano. E' gente che viene da fuori, parcheggia la macchina e scarica di tutto. Noi veramente siamo stanchi perché giustamente si paga le tasse per dei servizi e questi servizi non ci sono. Altro problema non da poco per le abitazioni che si affacciano sulla strada, la scarsa illuminazione che soprattutto in questo periodo di giornate corte rappresenta un serio rischio per chi deve camminare lungo la strada. Qui purtroppo è una zona molto buia di sera e c'è da evidenziare che le macchine passano forte, ci sono le case, c'è i bambini, quindi è zona veramente pericolosa. Comunque io anche la sera quando esco con i miei due cani mi devo addobbare come un albero di Natale con lucine, pile, addirittura metto le lucine anche a loro al guinzaglio per potermi far vedere. Però le macchine comunque sfrecciano. Si fa appello pertanto oltre che al buonsenso delle persone anche al comune che non abbandoni a se stesse le zone periferiche della città. Piccole isole di tranquillità ma che non vuol dire essere un deserto dei tartari. Noi chiediamo veramente solo il buonsenso delle persone e ci sia un po' più di controllo.